Il ritratto di Signora di Klimt sarà esposto alla Riciodi a partire dal 28 novembre, lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione della Galleria d'Arte. Il 15 ottobre sarà presentato il programma degli eventi. La Caserma Levante, teatro degli abusi di cui sono accusati i carabinieri arrestati il 22 luglio, presto potrà riaprire. La Guardia di Finanza ha dissequestrato l'immobile. Lunedì ricominciano le scuole e anche nella nostra provincia molte cattedre saranno scoperte a causa degli ormai cronici ritardi nella chiamata dei supplenti. La nuova stagione del rinnovato Piacenza si aprirà ufficialmente il 23 settembre con la sfida di Coppa Italia contro il Teramo. Si giocherà il Gariglia a porte chiuse. Oggi ha firmato il centrocampista Antonio Palma.